a cura della redazione giornalistica Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara, Penne. A seguito dell'ondata di gelo e neve che continua ad imperversare sull'Abruzzo è stata avviata la raccolta dati e quindi c'è anche la relativa procedura per la richiesta dello stato di emergenza nazionale. Lo ha annunciato il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale con delega alla protezione civile Mario Mazzocca. Le continue nevicate, ha detto Mazzocca, hanno prodotto ulteriori guasti che interessano sia la rete di alta tensione gestita da Terna che la rete di media tensione gestita da Enel Distribuzione. Ben oltre 300.000 persone sono rimaste senza elettricità un quarto della popolazione regionale. Una situazione, afferma ancora Mazzocca, vergognosamente peggiore dell'emergenza che si ebbe nel marzo 2015. A Pianella, nei locali dell'asilo nido Grillo Parlante, è stato allestito un centro emergenziale dotato di generatore. I locali sono riscaldati e la luce è funzionante. Il comune fa sapere che chi avesse bisogno può recarsi direttamente sul posto dove troverà i volontari della protezione civile. È possibile pernottare su Materassini ma occorre munirsi di coperte proprie. In caso di persone non deambulanti sarà disposto il trasporto in collaborazione con la Croce Rossa, conclude l'amministrazione. Iniziative simili sta cercando di attuarle un po' in tutte le zone colpite da questa eccezionale ondata di maltempo. Intanto però alle 6.30 di questa mattina il fiume Pescara ha iniziato a esondare nella zona che attraversa la città di Pescara. Anche in alcuni altri punti più a monte sembra che il fiume sia uscito dagli argini. Al momento la situazione è sotto controllo ma si prevede un aggravamento in giornata. Il comune di Pescara ha chiuso le golene che appunto sono già state chiuse alle 4.30 quando si sono accesi i semafori che segnalano la situazione di allarme. Problemi di allagamenti si registrano su tutto il territorio comunale. La protezione civile in sinergia con la polizia municipale e le forze dell'ordine sta operando per cercare di uscire dalla fase di emergenza. Le autorità raccomandano la massima prudenza e di prendere l'auto solo se necessario. Le strade allagate non permettono di avere una perfetta cognizione dell'eventuale pericolo e il passaggio delle auto potrebbe peggiorare la situazione allagando le strade circostanti. Al momento si stanno controllando tutti i sottopassi per chiudere quelli allagati. Quello di Fontanelle per esempio non riscontra problemi e libero anche quello delle Ponte della Libertà. Il sottopasso di Via Raiale è invece chiuso. Nessun problema al canile di Via Raiale che non risulta allagato. Ed ecco le scuole che oggi a causa del maltempo sono chiuse. In provincia di Pescara sono chiuse le scuole di Pescara, Spoltore, Penne, Montesilvano, Cepagatti, Torre dei Passeri, Città Sant'Angelo, Popoli, Alanno, Catignano, Scafa e Roccamontepiano. In provincia di Chieti invece sono chiuse le scuole di Chieti e Ortona che lo saranno anche domani. Quelle di Lanciano, Vasto, Orsogna, Castelfrentano, Mozzagrogna, Santa Maria in Baro, Torre Vecchia, Tiatina, Francavillalmare. In questo caso però di Francavillalmare solo le scuole dell'infanzia e poi le scuole di Roccamontepiano. E infine in provincia dell'Aquila sono chiuse le scuole all'Aquila, a Prezza, a Tagliacozzo, a San Benedetto dei Marsi, a Pescina, all'Aquila è chiusa anche l'università. E in provincia di Teramo sono chiusi gli istituti scolastici di Teramo che lo resteranno anche nella giornata di domani. Giulianova, Roseto, Ancarano, Campli, Pennea, Sant'Andrea, Silvi, Notaresco, Civitella del Tronto. E queste sono le scuole chiuse. E l'emergenza neve ha anche colori più vividi se vista dall'interno di un ospedale che magari normalmente fa già i conti con le emergenze. Le difficoltà della viabilità hanno creato molti problemi infatti anche ai soccorsi e alle ambulanze comunque garantite e scortate con tutte le procedure e le precedenze del caso. Sono state molte le chiamate di aiuto sia ai centralini dei vari comuni che a quello delle forze dell'ordine dove le richieste sono state diverse e hanno riguardato soprattutto esigenze primarie di neonati o anziani bisognosi di assistenza o medicinali, in alcuni casi altre attrezzature. I problemi maggiori anche in questo caso però sono stati creati dalla mancanza di energia elettrica che ha messo a dura prova i generatori alternativi, i quali però devono essere riforniti di gasolio, ma le strade in molti casi erano difficilmente percorribili. In ogni caso noi vi ribadiamo i numeri utili soprattutto nel pescarese. Per emergenze anche appunto legate all'assistenza a persone malate bisognose di attenzione particolare a Pescara potete chiamare il centro operativo comunale. Questo è il numero 085 37 37 202 ripetiamo 085 37 37 202 invece c'è anche il numero di cellulare che è il 335 15 30 487 lo ripetiamo 335 15 30 487 se invece siete a Montesilvano il numero del centro operativo comunale che anche qui garantisce assistenza soprattutto a quelle situazioni particolarmente critiche come per esempio anziani e malati che hanno bisogno di medicinali il numero in questo caso è 085 44 81 216 ripetiamo 085 44 81 216. L'altro numero è sempre del centro operativo comunale di Montesilvano è 085 44 81 326 lo ripetiamo 085 44 81 326. Se invece dovete viaggiare potete viaggiare potete viaggiare potete viaggiare potete informarvi sui mezzi che circolano chiamando per quanto riguarda gli autobus urbani di Pescara e dintorni la GTM al numero 085 432 12 ripetiamo 085 432 12. Per quanto riguarda gli autobus che vanno a Roma e altre località italiane l'ARPA il numero è l'800 762 722 ripetiamo 800 762 722 e per quanto riguarda i treni potete invece contattare Trenitalia il numero è 89 20 21 ripetiamo 89 20. L'amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione questo è il versetto paolino della seconda lettera ai Corinzi che fa la tema dominante della settimana di preghiera dell'unità dei cristiani che ogni anno la chiesa propone dalla 18 al 25 gennaio nella data compresa tra la festa della cattedra di San Pietro e quella della conversione di San Paolo. Il programma della nostra arcidiocesi prevede che si cominci oggi alle 19.30 nella chiesa dello Spirito Santo a Pescara con la preghiera ecumenica animata da cristiani, cattolici, ortodossi, metodisti e avventisti. Naturalmente questo è l'appuntamento previsto per questa sera lo ripetiamo alle ore 19.30 nella chiesa dello Spirito Santo a Pescara. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa pioggia per tutto il giorno e temporale nelle prime ore della sera con possibilità di nevicate fino a tutto il pomeriggio. Temperature da 8 a 9 gradi e venti moderati fino a tutto il pomeriggio e da forti a molto forti in serata e nelle zone interne. Pioggia per tutta la giornata, nelle zone interne appunto è prevista pioggia per tutta la giornata con possibilità di nevicate fino a tutto il pomeriggio. Temperature da 3 a 4 gradi e venti da deboli a moderati. Il mare è previsto da mosso a molto mosso. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito. A risentirci. A cura della redazione giornalistica. A risentirci.